Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo della varietà Favarol. Questa varietà è nota anche con il sinonimo di Perlarol. È una varietà diffusa principalmente nella zona meridionale del lago di Garda. Per quanto riguarda la morfologia possiamo dire che è una pianta mediamente assurgente, mentre per quanto invece riguarda i rami fruttiferi sono più pendoli. Le foglie sono inizialmente di verde chiaro e poi con il passare del tempo diventano verde scuro. Il peso medio della drupa va da un grammo e mezzo fino ai due grammi e mezzo e diventa nera a maturazione. Questa varietà è autoincompatibile ed ha una buona resistenza al freddo, alla rogna e al cicloconio. La produttività di questa varietà è sicuramente diciamo tendenzialmente alternante. Ecco perché vanno diciamo messe in pratica tutte quelle pratiche agronomiche sia di nutrizione che di irrigazione che anche di lavorazione del suolo in grado di poter fare, cioè che possano fare in modo appunto per questa varietà di riuscire a mitigare questa alternanza produttiva. La resa in olio è buona e può arrivare a dei picchi del 22-23%. La qualità di questo olio è ottima. Ragazzi con questo è tutto, spero di aver insomma toccato un po' tutti gli argomenti rispetto a questa varietà. Come sempre se avete dei commenti fateli qui sotto, se avete delle domande specifiche per il vostro caso insomma scrivetele nei commenti. Se il video vi è stato di interesse supportatemi con un bel like e se volete continuare a rimanere aggiornati su questi argomenti iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto e ci aggiorniamo nel prossimo video. Ciao!